A proposito della Salemi, c'è una frequentazione in questo salotto con la Salemi perché quest'estate io stavo a Capri tra Geremia e la Salemi ho visto che c'erano certi sguardi Allora lo possiamo dire perché dopo Geremia un Francesco e un Andrea Iannone che si è messo anche in mezzo io dico che questa ragazza aveva qualche problema con la famiglia Esatto, esatto, è vero deve essere la nuova Belen, deve essere la nuova Belen, è vero hai ragione ma non so se è la nuova Belen, non so se è questo, non mi interessa posso dico nel senso che quando è uno, due, tre pure con Giannone ci ha provato no non so, la madre è andata a dire che lui ci ha provato con lei e che lui l'ha rifiutato e quindi questo, uno, due, tre della famiglia sono rimasta abbastanza sconvolta però nel senso, rispetto ogni opinione io personalmente non ho mai detto che Giannone ci ha provato con me anzi, quella notizia che era uscita risale a quattro anni fa una serata passata in gruppo tutti insieme dove siamo andati a un evento basta, non è mai successo niente, mai detto che ci ha provato con me ha detto Giulia, tua mamma a mattino 5 dalla Federica Panicucci ha detto che tu e Giannone in effetti vi siete frequentati ma prima che lui stesse con Belen questo l'ha detto tua mamma, non è bene informata ogni tanto la mamma si perde qualche passaggio no, 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 è una cosa di quattro anni fa veramente assurda